Questa ultima azione dell'Umana Reier con Ariel Figlioi marcato da Dustin Ogg 13, 12, chiede l'accelerazione anche il presidente Brugnano poi Bramos da 3 punti, la tripla di Michael Bramos meno di 7 secondi, la palla nelle mani di Trento con il tiro di Corrae non va, c'è un fischio arbitrale perché c'è un cambio prima Andrea, sto perdendo la voce ma vale la pena Nella serie Scudetto, 3 a 2, andrà al palladretto a giocarsi il primo matchball una partita tutta in salita e Bramos viene giustamente festeggiato Andrea, è questo il bello del basket, una partita a inseguire e a vincere